Bella ragazzi da Job e benvenuti al mio secondo vlog. Oggi avevo intenzione di parlarvi dei videogiochi, di fare un vlog appunto sul mondo videoludico, ma ho presto cambiato di idea dopo aver visto una scena clamorosa ieri sera. Ecco qui che ve la mostro. Ebbene sì, l'argomento di oggi è il calcio. In particolare la Serie A. Il video che vi ho fatto vedere precedentemente mostra il portiere della Roma, Guicocea, un portiere nato nell'88 di origine uruguayana se non sbaglio, che ha eseguito una parata a dir poco sbilenca, che ha permesso alla squadra Cagliari di passare in vantaggio e quindi ha compromesso tutta la partita, di conseguenza poi la Roma ha perso. Diciamo così. Ora, pensando a questo, mi viene in mente una domanda. Tra i pali sarebbe meglio dare fiducia al giovane Guicocea o valutare l'opzione Stechelenburg. Stechelenburg, che come è noto a tutti, nel 2010 è stato uno dei migliori portieri in circolazione. Tuttora io lo considero uno dei migliori portieri a esperienza, a carisma, e allo stesso tempo ha molta fama, infatti non per altro, è stato richiesto da molte squadre nell'ultimo calciomercato. Stechelenburg è origine olandese, è nella Roma da due anni, Guicocea invece è arrivato lo scorso mercato di estivo, e entrambi si stanno giocando questo posto da titolare. Attualmente Zeman pare aver scelto Guicocea, portiere appunto protagonista della papera clamorosa, però non so, io tra i due sceglierò Stechelenburg, perché dà più sicurezza sia alla squadra che anche ai tifosi, che ormai sono stufi di vedere i propri portieri fare delle clamorose papere, che chiunque credo le avrebbe evitate, perché come si può vedere nell'episodio, il giocatore quando si è aggrappato alla palla, invece di girarsi come normalmente un portiere fa verso la linea del limite dell'area di rigore, si è girato verso la linea di porta, di conseguenza un rimpallo lo ha sfavorito e la palla è entrata. Io credo che la Roma debba, diciamo, dare più fiducia a Stechelenburg, nonostante anche lui abbia fatto delle papere, però credo che Stechelenburg sia di un gradino superiore a Guicocea. Guicocea che però ha dimostrato in alcune partite di essere veramente un portiere promettente, uno di quei portieri che potrebbero fare la differenza negli anni a seguire, come ho detto prima è dell'88, quindi appena 25 anni. Sì, a 25. Va bene ragazzi, vorrei avere anche un riscontro con voi, secondo voi quale sarebbe la cosa migliore che dovrebbe fare la Roma? Cosa dovrebbe fare Zeman, il nuovo allenatore? Dovebbe dare fiducia a Stechelenburg o mantenere tra i pali il giovane Guicocea? Secondo me, come ho detto prima, Stechelenburg. Un'altra alternativa che secondo me la Roma doveva valutare e doveva sicuramente attuare nello scorso mercato di gennaio era quella di prendere un portiere, si è parlato negli ultimi giorni di mercato, proprio nelle ultime ore, di Emiliano Viviano, il portiere della Fiorentina, anche lui non più giovanissimo, ma comunque uno dei portieri, almeno fino a qualche mese fa, che era il secondo di Buffoni nazionale, Buffoni è un grandissimo portiere, lo sappiamo tutti, quindi se uno fa il secondo a Buffoni nazionale, vuol dire che le capacità le ha e le può sfruttare. Con Viviano avrebbero risolto molto in difesa, anche perché, da come la vedo io, se uno sa di avere dietro di sé un portiere sicuro, sicuro, ma soprattutto che dà garanzia, gioca più tranquillo, quindi i difensori non devono stare col pensiero «Oh, ma se io sbaglio poi il portiere non la paro!» No, se c'è un portiere forte, secondo me, la squadra gioca meglio, arrivano i risultati e si risale in classifica, si raggiungono gli obiettivi. Detto questo vi chiedo cosa ne pensate voi, io non sono un tifoso romanista, vorrei sapere cosa ne pensano i tifosi romanisti, ma anche i tifosi non romanisti, cosa ne pensano, se Steckerenburg secondo loro vale molto di più di quanto sta facendo a Roma o altro. Detto ciò, vi invito al prossimo vlog, vlog, ci vediamo, bella raga!